L'attenzione verso il mercatino L'attenzione verso uno stile di vita che tutela e valorizza l'ambiente è cresciuta in poco tempo e abbiamo pensato che dovesse ampliarsi al mondo del lavoro, alla green economy e alle nuove opportunità che essa offre per il nostro futuro. Nasce così Alternanza Green, da una rete di scuole pugliesi che raccolgono l'invito di Italia Lavoro. Segue la candidatura per un percorso di alternanza scuola-lavoro che coinvolge i ragazzi della terza CISIA. Si punta alla figura professionale dell'esperto in marketing del territorio. A partire da piccoli consueti gesti giornalieri come l'impegno di spegnere le luci in classe e diminuire gli sprechi, differenziare i rifiuti con più attenzione e assicurarsi di rispettare l'ambiente in cui conviviamo e ci formiamo, abbiamo pian piano iniziato a esportare i nostri comportamenti green da un piccolo ambiente al mondo esterno. L'ultimo e più importante obiettivo è indubbiamente quello di divenire un modello per le classi delle future generazioni, per fare in modo che l'unico bicchiere che abbiamo, metafora del mondo, mezzo pieno o mezzo vuoto che sia, non diventi mai del tutto vuoto.